Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Settimana scorso ho fatto un video dove spiegavo che parte del lavoro per far sì che il cane non tiri al guinzaglio è deputato al proprietario. Oggi voglio evidenziare l'aspetto tecnico legato alle manualità corrette da tenere sul guinzaglio. Quando il cane tira assumiamo delle posizioni scorrette che sembra ci aiutino a compensare la trazione che il cane esercita. A causa di queste posture sbagliate e soprattutto sbilanciate arrivano mal di spalle, di collo e di schiena. Questo succede perché anche il guinzaglio è uno strumento e come tale va saputo usare. Partiamo da come si tengono le mani sul guinzaglio. Quando il cane tira al guinzaglio spostiamo una delle due mani verso il moschettone girandola in questo modo per trattenere il cane. Il risultato è che tutta la forza del cane è bilanciata dall'avambraccio. Questo si nota perché per compensare questa carenza si sposta la gamba verso il cane. Le mani al guinzaglio vanno tenute in questo modo, vicino l'una all'altra e girate in modo che entrambe le spalle possano assorbire la forza del cane. Le gambe non devono mai essere tenute spaiate ma allineate in modo tale da non sbilanciarsi e cadere in avanti. Quando il cane tira dobbiamo spostare entrambe le braccia come per seguirlo e poi tirarle indietro verso il petto. Non dobbiamo assolutamente strattonare il cane. Non tiriamo il guinzaglio verso l'alto perché se eserciterebbe una tensione sul guinzaglio il cane imparerebbe nulla. Quando il cane è vicino dobbiamo premiarlo. Queste sono le regole di base per cominciare a trattenere il cane e anche le regole di sicurezza per gestire un cane tiratore. Successivamente a ciò c'è la fase di apprendimento al guinzaglio da svolgere con un professionista che vi affianchi. Spero che questo video vi possa essere stato utile per la gestione del vostro cane. non dimenticate di seguirci sui nostri canali social e di metterci un like se il video vi è piaciuto.